FALES OF THE WEEK 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 IN SECUNDIS Se così si può dire Di solito questi li vi dico il cecchino no? Che fanno ste cose Con l'M8 Cioè non penso che l'M8 Abbia così tanto danno Come il cecchino Ad ammazzarti attraverso 6 muri Così Boh a caso Io spero come sempre Che la top vi sia piaciuta Se è così Mi raccomando Lasciate un bel pollicione Verso l'alto Un commento Se non lo siete ancora Iscrivetevi al mio canale Che mi fa sempre molto piacere Noi ragazzi ci troviamo domani Con la top 5 Play soft week Per oggi Davilino è tutto E bella